chiesa alla juventus è un affare di oltre un anno fa risale al passaggio di piazza alla fiorentina l'estate scorsa può cambiare un patto tra società con il cambio di proprietà può cambiare soprattutto l'interesse del giocatore la sua vita professionale non credo e non vedo nemmeno l'interesse della fiorentina ostacolare una storia quasi naturale che senso ha chiedere a chiesa di rimanere soltanto un anno in più in base a cosa per chi un fatto è impostare un progetto sul giocatore sulla squadra che gli sta intorno altro farlo sembrare il premio di consolazione di una presidenza all'esordio non funziona così la fiorentina valuti quello che è quello che può diventare e faccia i conti con se stessa se chiesa ci sta dentro benissimo altrimenti meglio ricominciare senza e ricostruire la squadra al massimo una volta per tutte